La lunga conferenza stampa con cui Claudio Scaiola ha annunciato le linee di indirizzo sul porto turistico di Imperia sembra estrapolata dalla sceneggiatura di un film grottesco e quanto afferma Lucio Sardi di Sinistra in Comune e Sinistra Italiana, contestando in particolare il fatto che il sindaco di Imperia non abbia fatto accenno o espresso giudizi sul disastro che ha portato al fallimento della società del bacino turistico. Quanto all'annuncio di Scaiola circa il mantenimento in mano pubblica della gestione del porto, per Sardi questo non sorprende in quanto è l'unica via percorribile. Ma l'esponente della sinistra si dice sconcertato dalla mancanza di un progetto politico-amministrativo per il completamento del porto che riveda quello faraonico precedente. Progetto senza il quale, dice Sardi, non si può ottenere, affiancandolo a un piano finanziario di sostenibilità, il rilascio di una concessione demaniale di più lunga durata alla società pubblica che dovrà realizzarlo. Lucio Sardi evidenzia quindi che tali carenze e approssimazioni fanno temere che un domani si possa dichiarare non percorribile una gestione pubblica del porto turistico e non è quindi scongiurato il rischio che il bacino possa tornare a essere merce di scambio per fallimentare i progetti amministrativi.